Giro in mountain bike, Danumana, Musone, Loreto e Porto Recanati Primo giugno 2024 In questo video faremo il lungomare, passeremo per Marcelli e arriveremo al TAMUS Vedete dove c'è l'uscita, è un punto strategico per misurare il livello cerebrale E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio Volendo potete seguirmi anche su Instagram dove trovate foto per il Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60fps Hyperview E sono sempre sulla mia Cannondale FSI 29 Carbon Team Bellina FSI 29 Grazie a tutti. 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 8,9%. Ambulanza. Sono terminati. Ciao a tutti. Grazie a tutti.